Dopo due giorni di astinenza, bentornati nel recap della MNPA. Si è appena concluso, non so, il risultato di Brooklyn Charlotte e poi domani, anzi, domani, anzi, domani, martedì, vabbè, diciamo così, commenteremo ovviamente. Austin Celtics, Knicks Magic, Orlando Magic, Oklahoma 76ers, poi Sacramento Golden State e Lakers. Grizzlies, quindi bei match, ragazzi, stati esitualizzati, perché domani ci sarà da divertirsi. Comunque oggi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, vediamo un po' se riesco a leggere 6, 7, 8. Li ho guardati tutti gli egglites. Posso darvi le mie conclusioni. Iniziamo a Cleveland Atlanta. Posso dirvi che non me l'aspettavo. Cleveland che vince contro Yokes un po' a sorpresa con Cleveland. Quante vittorie ha fatto Cleveland? Che ora sono un po' curioso. Andiamo subito ad analizzare. Cleveland, Cleveland ha fatto una vittoria su tre. Ripartire da questa vittoria contro Atlanta, che fino ad ora quante partite ha vinto? Ne ha vinto una. Una su due, quindi ci può fare una sconfitta di intermezzo. Però ovviamente Atlanta, gli Hawks devono ripartire. È un buon Cleveland che ha costruito un buon basket. E questo, scusate ragazzi, questo secondo me è il modo per ricostruire una scuderia che in questo momento è in decaduta. E se vogliono arrivare quantomeno decimi per avere accesso ai plain, devono ricostruire. Ripartire da queste basi, da queste vittorie. Pacers Miami Heat. Sapete che io sono simpatizzante dei Pacers. Vinco un 102 a 91. Buona gara a parte dei Pacers, che anche essi sono come Cleveland. Giocano di squadra, giocano molto di squadra. Miami Heat che riesce a portare la sfida fino all'overtime. E poi si bloccano incredibilmente. Si bloccano quota 88. Riescono a fare solamente altri tre punti. E alla fine invece un parziale netto in tutto l'overtime di quanto era 88-88. Quindi 14, non vorrei fare brutto, sì, 14 a 3 per Indiana Pacers che si riescono a portare la vittoria a casa. Una buona vittoria, prima vittoria per i Pacers in quest'anno. Mentre invece Miami Heat che inceppa nella prima sconfitta di quest'anno. Toronto-Dallas ragazzi, Toronto dà del filo a torce nei primi tre quarti. Ma alla fine la spuntano di Dallas. E ovviamente ragazzi, quando era incerto, Doncic. Non è mai semplice direi vincere? No, non è mai semplice ragazzi. Toronto che perde. Comunque Toronto che forse deve ripartire da questo. Boh, cioè, a meno che non tieni quei ritmi per tutta la partita, sì, se no, assolutamente no. Passiamo all'altra partita con i Bulls contro i Pistons. Chicago che vince contro Detroit, abbastanza di soltezza. 15 punti di distacco, bene i Chicago Bulls. Ragazzi, stanno facendo veramente un grande inizio. Eravamo partiti secondo me per arrivare ai play-in insieme a quell'altra carrellata di squadre come i Pellinghams. come i Toronto, come i Cleveland, come, non so, forse anche i Memphis. No, Memphis no, dai, i Minnesota abbastanza. Gli Orlando Magic, a mio parere. Cioè, quelle squadre che voglio puntare ai play-in, ma è abbastanza probabile che vuoi per inesperienza, vuoi perché qualcosa, vuoi per sfortuna, non riescono ad arrivarci. Mentre invece ha iniziato molto bene Chicago. Tre vittori su tre, grande squadra, ragazzi. Ha iniziato molto bene questa squadra. Passiamo a Minnesota contro i Pellinghams. Minnesota contro New Orleans. e vince il Minnesota. Dade il filo alla torcia il New Orleans, ma alla fine si avrà a rendere. 96-89 contro Minnesota, che porta una buona vittoria. Dei buoni punti, dei buoni punti a casa. Che, ovviamente, ci spusi sui punti. Io, onestamente, non ci sputo sui punti. Altra vittoria, nuova vittoria, dire il vero. Fatemi vedere, Minnesota è la prima vittoria. C'ho questo dubbio. Minnesota, Minnesota, Minnesota... No, è la terza, seconda, forse, sì, seconda vittoria dei Minnesota. Comunque, una vittoria che fa comunque dei buoni punti in vista, magari. Dei clean, barra, miracolosamente, a mio parere, il playoff. Bucks, ragazzi. Bucks, ragazzi, vincono contro gli Spurs. Faticando un po' più del previsto, ma alla fine ci può stare a faticare contro gli Spurs. Vincono di 10 punti. Partita molto equilibrata fino al quarto quarto. Un pochino c'è di San Antonio. Non c'è di Milwake Bucks. Che riesce a vincere. Passiamo dai 3 al Blazers contro i Suns, ragazzi. E non c'era tanto a cui aspettarsi quest'anno dai Suns, lo posso dire, sì. Non si sa cosa aspettarsi. Quanto sa che, se non sbaglio, sono tre partite e tre perse. Andiamo a verificare, ovviamente, se è così, se... Eh no, ne ha novità una. Eccomi, scusatemi, corrego. I Suns non si sa cosa aspettarsi e oggi perdono. Un vero peccato. Eh, non lo so, ragazzi. I Suns potrebbero arrivare play-in come non arrivare proprio a nessuna parte e finire subito la regular season e finire la stagione senza alcun post-season dopo l'anno scorso che hanno sfiorato con un dito la vittoria. Passiamo ai Clippers contro i Memphis. Memphis che vince. I Clippers, scusate, che tengo testa per tutti e quattro i quarti. Infatti il risultato è abbastanza stretto. 114 a 120, quindi di stacco, di soli 6 punti. Paul George, ovviamente il trascinatore, con 41 punti. Molto bene anche oggi per Paul George, che però, ovviamente, ragazzi, non è come tante altre team, altre franchigie, come, ad esempio, i Pacers, come Toronto, come Chicago Bulls, che gioca tutta la squadra, ma oggi invece si è fatta veramente vedere la predominanza di un grande giocatore quali Paul George, e però Paul George non è bastato. Comunque questo video si conclude qua, fatemi sapere come sempre la vostra. In ogni caso noi ci vediamo, forse dopo, forse domani, non lo so. Comunque questo video si è fatta, fatemi sapere come sempre la vostra.